Non si ferma la marcia dell'Alba Verde, che batte con il settimo 3-0 su otto partite la Cus Catania e permette alla formazione nissena di mantenere la vetta solitaria della classifica. La gara, durata poco più di un'ora, è stata un monologo delle padrone di casa, che non hanno mai perso il filo del gioco, mostrando carattere e concretezza e una buona capacità di mantenere la concentrazione anche quando il match mostrava fasi di stanga. Tra le atlete dell'Alba Verde, buona prova di Valeria Lamattina, Sara Miceli, Genni D'Antoni e Alessia Angilletta, ma in generale tutta la squadra ha giostrato su buoni livelli di rendimento. Sabato 3 dicembre, insidiosa trasferta a Catania contro il volley Funivia Etna. I risultati dell'ottava giornata Serie B2 Gironem. Alba Verde Cus Catania 3-0, Stefanese Funivia Etna 0-3, Fidelis Torretta Pallavolo Grotone 2-3, Gioiosa Procori Ericina 1-3, Planet Saracena 0-3, Bricositi Volley Volley Region 3-2, Ardenz Comiso Zafferana 0-3. La classifica. Alba Verde 22 punti, Zafferana 21, Pallavolo Crotone 20, Gioiosa 17, Funivia Etna 16, Procori Ericina e Cus Catania 15, Fidelis Torretta 14, Saracena 9, Volley Region 7, Ardenz Comiso 5, Bricositi Volley Stefanese 3 punti, Chiude la Planet con un punto.